Il secondo posto è di Adriano Di Canto. L'ebolitano Adriano Di Canto conquista la seconda posizione nella finale del campionato italiano Juniores che si è svolto ad Arezzo. Il promettente cavale a Rizzo è stato battuto solo da Gabriele Gasparetto, il podio è stato invece completato da Elisa Ottobre. Un podio straordinario per la stella nascente dell'equitazione italiana l'ebolitano Adriano Di Canto che è tra le promesse della società ippica la Madonnina di Vinovo in provincia di Torino. Alla finale di Arezzo hanno preso parte 17 concorrenti e l'ebolitano Di Canto con i suoi 16 anni era tra i più giovani.